Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Bolaffi, io sono Lorenzo Lamorte, qui a fianco a me, lascio che si presenti. Massimiliano Maffinato, benvenuti. Bentrovati a tutti, grazie a tutti coloro i quali stanno seguendo queste trasmissioni ormai da qualche anno, ormai siamo, veramente possiamo dire di essere con un'esperienza pluriennale, siete davvero in tanti, tanti di voi hanno avvicinato la filateria, la numismatica che presentiamo grazie a queste televendite e quindi veramente a voi va un ringraziamento particolare. Non faccio nomi per non dimenticarmi qualcuno e far brutta figura, quindi un grazie davvero a tutti. La Bolaffi, sapete, è un'azienda antica, è un'azienda fondata nel 1890 che ha iniziato la propria carriera, il proprio successo sul mercato grazie alla passione più antica del fondatore Alberto Bolaffi, che è la passione per i francobolli e quindi per il collezionismo di filateria. Ma la Bolaffi ha anche filografia, quindi collezionismo di documenti e anche numismatica, come ben conosce chi segue queste trasmissioni ormai da tempo. Ma oggi è una puntata veramente eccezionale, dedicata, lo già state guardando il nostro tavolo apparecchiato in maniera un po' differente dal solito, proprio alla filateria. Vorremmo fare con voi oggi una, come posso dirvi, una piccola, un piccolo viaggio nel tempo, nello spazio oltre che nel tempo, questo è un messaggio subliminale che sto mandando e quindi vi invito a seguire con attenzione la trasmissione perché vedrete degli oggetti straordinari. Ancora due parole vanno dette, vanno giustamente specificate su che cosa siamo qui a fare in buona sostanza. La trasmissione è una trasmissione di presentazione, vedrete dei francoboli, delle buste, delle offerte di avvio di collezione. Se qualcuno o qualcosa di quello che vedete vi ha particolarmente incuriosito o vi ha già dato e generato il desiderio d'acquisto o più facilmente una curiosità di approfondimento, vedete un numero, quel numero non è un numero che automaticamente addebita sul vostro contocorrente qualcosa, è un numero gratuito, è un numero che serve ad entrare in contatto con i nostri centralini al nostro centralino chi trovate? Non trovate un call center ma trovate delle persone bolaffi che possono darvi le spiegazioni che meritate, che richiedete. Quindi ho visto quella busta ma non ho capito bene il perché di quel timbro, di quel francoboli. Ecco, quando avrete avuto spiegazioni sufficienti, se vi farà piacere sappiate che abbiamo la possibilità di portarvi a vedere queste meraviglie. Come? Organizzando un incontro nella maniera più comoda per voi nei nostri negozi, Torino, Milano, Roma o Verona, oppure a casa vostra, nei vostri uffici, nei vostri studi, dove vi è più comodo, grazie al fatto che disponiamo di una preziosa, lo dico veramente, spero che i nostri funzionari ci stiano seguendo, veramente sono la nostra forza sul territorio perché persone bolaffi, uomini bolaffi con esperienza decennale, il più giovane, sono sul campo per venire a casa vostra e per mostrarvi queste meraviglie. Per farvi entrare esattamente nel mood giusto eventualmente di acquisto e qualora poi questo diventi appunto quella lampadina che si accende e che vi fa dire si lo compro, allora a quel punto loro sono in grado anche di studiare con voi percorsi di pagamento comodi perché magari si può spendere 100 euro, 100 mila euro in filatelia e con quello magari il pagamento di quelle cifre si può modulare in funzione delle vostre esigenze. Esatto, Lorenzo, vedete anche l'indicazione di un sito internet dove sono presenti tantissime offerte, quelle più legate al divertimento, all'aspetto ludico del collezionismo ma come anche altri riferimenti importanti per coloro che magari appunto non conoscono l'universo ormai consolidato alla Bolaffi dal 1890, svolge con grande passione e forse anche con un pizzico di responsabilità essendo la prima grande azienda che ha avuto diciamo il desiderio e la volontà di diffondere il collezionismo in tutto il territorio italiano ma non solo anche al di là dei confini. È proprio per questo motivo che noi utilizziamo queste proposte televisive per diffondere ulteriormente per coloro che non ci conoscono alcune delle grandi proposte che abbiamo nel nostro cavo segreto ed è proprio in questa diciamo con questo obiettivo che abbiamo fatto una piccola selezione Lorenzo di grandi oggetti, oggi una puntata sensazionale imperdibile, partendo subito con una grandissima rarità, un oggetto dal respiro internazionale. Bene ci sono oggetti che commercializziamo che hanno una forte attinenza, un forte legame solo con il collezionismo diciamo italiano e poi ci sono oggetti come quello che vi stiamo per proporre raccontare che vanno invece ad un curiosire a essere desiderati da tutto il mondo. Dico questo Lorenzo perché quando vediamo queste immagini e ci rendiamo conto che facciamo riferimento a uno di quelli che possono essere stati gli eventi che hanno cambiato le sorti dell'umanità intere. Tanti di noi l'hanno vissuto, l'hanno anche insomma sulla propria pelle, siamo nel 1969 e l'uomo finalmente dopo tanti anni riesce a costruire un progetto per lo sbarco sulla luna. Certo che oggi chi sia magari sintonizzato per caso ha avuto, posso dirlo veramente, un colpo di fortuna, magari poi deciderà che questa meraviglia può diventare sua e magari fa un gesto d'acquisto, ma soltanto vedere e ammirare una testimonianza così importante di uno degli eventi dell'umanità tutta più importanti, credo che meriti davvero un ringraziamento alla Bolaf. Esatto. Quindi anche una telefonata di saluto, di complimento è gradita quando vi arrivi questo tipo di sentimento. Quindi torniamo al racconto che stiamo facendo che non è un modo per perdere del tempo Lorenzo, ma è solo per far capire veramente la rarità di questo oggetto. Siamo nel 1969, siamo nel luglio del 69, l'America ha ormai finalmente definito quello che sarà il progetto dello sbarco sulla luna e come testimoni oculare oltre agli occhi dei tre astronauti, li ricordiamo Armstrong, Aldrin e Collins, che con diciamo la loro missione riuscirono veramente con i loro occhi a ricordare, a testimoniare, a vedere fisicamente la luna, per la prima volta questo satellite importantissimo della Terra, furono pensate chiaramente delle buste, delle buste che volevano far parte, andavano a far parte, scusatemi, del carico personale degli astronauti e che loro stessi ovviamente andavano poi ad autografare come ricordo dell'evento stesso. Ricordiamo, ripeto, siamo nel 1969, non siamo nel 2014, mail e comunicazioni velocissime. Allora la carta era l'unico vero oggetto che permetteva di lasciare per iscritto un qualcosa, una testimonianza. Ma l'uomo sulla luna non c'era mai andato, l'uomo sulla luna non aveva idea, poteva solo fare delle ipotesi. Quindi cosa fecero, ovviamente per richiesta specifica del governo americano, fecero uno studio su quelle che potevano essere le reazioni di queste buste, di queste testimonianze, una volta che fossero giunte nell'atmosfera piuttosto che poi sul suono lunare. Ed ecco che soltanto 150 buste nel 1969 furono oggetto di studio, ed eccola qua, il dettaglio, grazie, grazie a Mario che mi fa questa specifica importantissima, soltanto 150 cover, come le chiamano in americano, le buste, furono oggetto di studio, quindi furono fatti ovviamente delle analisi sull'inchiostro dei timbri che avrebbero usato, perché? Perché ipotizzavano che ci sarebbe stata una possibile alterazione delle molecole, perché cambiava completamente la gravità come sappiamo. Quindi quello che stiamo veramente così ammirando è un testimone di uno degli eventi più importanti della storia del Novecento, ma dell'umanità tutta. I grandi uomini della storia, li citiamo spesso grazie al salto indietro nel tempo che facciamo in numismatica, quando parliamo di Alessandro Magno, quando parliamo di Giulio Cesare, ma non possiamo non farlo anche parlando di questi grandi astronauti, di questi grandi eroi che vanno a compiere una missione, di una difficoltà, di una pericolosità enorme. Quando l'Apollo si abbandona la base di Cape Canaveral e comincia a volare pian piano superando tutti gli strati dell'atmosfera e poi incontra al buio ed entra nello spazio, missione luna. Immaginatevi, ci sono dei film bellissimi che hanno raccontato questo episodio, immaginatevi lo stato d'animo di queste persone. Immaginatevi che in un mondo, che siamo appunto nel 70, in cui la testimonianza filatelica, il collezionismo di Franco Bolli è un collezionismo di gran diffusione a livello mondiale, ecco che l'importanza anche di testare la reazione delle buste, dei timbri, degli inchiostri in assenza di gravità è una delle missioni che viene data agli astronauti. Ma chiaramente, come correttamente ci ricordava Massimiliano, non avendo l'esperienza, le missioni successive avevano l'esperienza, ma non avendo l'esperienza è necessario provare a terra a ricostruire le condizioni che gli astronauti avrebbero trovato sulla Luna e andare a effettuare tutte le operazioni. Esatto. E tra l'altro, Lorenzo, ti chiedo la cortesia, proprio a riprova di quello che stiamo dicendo, poi torneremo sul, diciamo, di ruotare cortesemente la busta. E qui le mie amiche pinzette mi devono aiutare. Da buon filatelico. Eh beh, sì, insomma, in Bolaffi questo è sicuramente... Eccolo qua, guardate. Esatto. Abbiamo la fortuna di dare senso concreto a ciò che vi stiamo raccontando. Cioè, dato che non c'era quella conoscenza di base rispetto alla reazione chimica che avrebbe avuto la carta piuttosto che l'inchiostro, e convinti che l'arrivo, diciamo, il contatto con quelle che era veramente il solo lunare, il cambio di gravità e chissà quali altri agenti chimico e atmosferico, decisero di sottoporre, ovviamente, a quarantena queste buste. A quarantena, nei laboratori, dopo aver ricreato e aver fatto vivere, scusatemi, a queste buste, le stesse condizioni che ipotizzavano avrebbero trovato sul solo lunare. Ed ecco che la busta, come vedete, nella parte più in alto, Mario ti piego nella parte in alto a sinistra, eccola qua. Vedete? L'indicazione della messa in quarantena di queste rarissime buste. Ecco che oggi, in questa puntata della Bolaffi, con grande emozione, vi stiamo proponendo la numero due, perché queste buste furono tutte quante numerate e ad oggi non se ne sono conservate 150, ahimè, perché se ne avessimo tante sarebbero oggetto di facilissima trattazione, diciamo, no? Ma invece questa, che vedete, tra l'altro, numerate, come vi dicevo, è la numero due. Quindi questa è la seconda busta che in Texas subì il trattamento, quindi la prova di utilizzo del bollo che successivamente, poi, in maniera definitiva, fu utilizzato per la missione Apollo 11, quella che tutti ricordano per lo sbarco o comunque per la prima volta l'uomo arriva. La conquista della luna, signori, la conquista della luna, ecco, perché valutare una proposta così importante? Perché abbiamo voluto dedicare tutto questo tempo e non è un solo secondo sprecato ad ammirare testimoni così importanti, una testimonianza di un evento così fondamentale che è collezionato evidentemente in tutto il mondo, in tutto il mondo. Ecco, non stiamo ammirando un oggetto da collezione dei collezionisti del Trentino Alto Adige, del Friuli, della Sicilia o della Croazia o della Germania o degli Stati Uniti, perché lo sbarco sulla luna, ancorché chiaramente è stato effettuato dagli Stati Uniti d'America e dagli americani, è di una portata internazionale al punto che è un oggetto di grande culto. La numero 2 di 150, che non pagate in più, perché fosse stata la 4, la 7, la 150, abbiamo una quotazione di catalogo che ci dà una quotazione precisa, è un valore aggiunto e non c'è neanche bisogno di sottolinearlo, è enorme, perché? Perché comunque ci porta di fronte alle prime proprio, quelli diciamo che le hanno probabilmente sottoposte a quarantena tutte, ma sicuramente i primi esperimenti, perché sono fatti sui primi, no? Disponibili. Assolutamente. Quindi una lettera, una busta di una forza incredibile. Io quando Massimiliano mi ha detto che avevamo avuto questa fortuna di avere questo oggetto, ho detto no, guarda, facciamo la puntata dedicata solo ed esclusivamente al famoso moon landing. Ecco, moon landing proprio, vabbè, la traduzione è facile un po' per tutti, quindi l'atterraggio lunare, ma soprattutto il moon landing è il riferimento a questo timbro, primo timbro se vogliamo di posta spaziale, se così possiamo, cioè ci sono tantissimi primati che vengono raccontati da questa busta, questa grande busta, grande rarità. Un'altra specifica, guardate il francobollo, perché vi è scritto Apollo 8? Vi è scritto Apollo 8 perché in America i francobolli non andavano in disuso e gli Stati Uniti d'America avevano fatto, eseguito una serie di, diciamo, missioni, spesso erano piccoli frammenti di missioni per costruire quella che poi sarebbe stata la missione del 69. Passaggi successivi. Esatto, quindi tutti i moduli tentativi di lancio, di atterraggio piuttosto che precedenti furono anche essi ricordati da busta e sicuramente dal significato non così importante come questa, perché questa rappresenta, lo ricordiamo, un passaggio epocale per l'intera umanità che è lo sbarco sulla luna, la scoperta della luna. Torniamo un attimo sul francobollo Mario, fammi una zoomata perché c'è una frase che è incredibile. In the beginning God, all'inizio Dio. Ed è una frase, secondo me, che ha un carico di significato enorme per degli uomini di scienza che comunque vanno alla conquista di un mondo nuovo attraverso tecnologia, attraverso sacrificio, comunque una visione mistica di quello che è una forza superiore che in qualche maniera benedice questa missione. Ed è proprio tipica di un richiamo all'antico, quando gli uomini dedicavano ad Apollo le proprie missioni, le proprie guerre, le proprie battaglie. Il nome infatti è stato proprio. Infatti Apollo non è un caso, non è un caso. Io penso che questa busta, guardate la vignetta con i tre astronauti che sono operativi con il modulo di sbarco a effettuare gli esperimenti, guardate l'aquila che identifica, lo vedete, la missione, tutte le missioni Apollo, questa aquila, vedete i richiami, che ha anche il simbolo tra l'altro degli Stati Uniti, quanti richiami ci sono, la terra e lo sbarco sulla luna. Io credo che eravamo, diciamo, un po' in dubbio se dirvi, telefonate per conoscere il prezzo, però poi abbiamo pensato che una banconota, scusatemi, una busta così importante e con una storia così importante potesse farvi pensare a quotazioni stratosferiche. E anche giustificate, direi. Esattamente. Mentre invece Lorenzo? Mentre invece la proposta per questo grande, grande, grande lotto, il 1573, questa busta del moon landing, 12.600 euro. 12.600 euro, tanti, pochi, non lo so, ognuno di voi ha le proprie geometrie per definirlo. Però sicuramente se siete amanti della storia, se ci si rende conto che 150 soli in tutto il mondo, se ci sono, sicuramente ce ne saranno di meno, ma noi teniamo fede, riferimento a quella che è stata la tiratura del 69, vedete 20 luglio del 69. Lo stesso timbro fu poi ufficialmente utilizzato, sulle buste facenti parte del carico dell'Apollo 11, vero e proprio che poi di lì a poco partì, e tra l'altro, ci piace sempre dirlo, presente tra tutte queste informazioni sul nostro catalogo Formula, lo inquadro solo velocemente per non togliere spazio dalla busta, catalogo che nel 2007 ha fatto storia, perché possiamo chiamarla l'enciclopedia filatelica, qui dentro troverete tutte le informazioni sulle più grande rarità, non solo italiane, ma come in questo caso parlando di grandi rarità internazionali, vi diciamo c'è anche un catalogo capace di raccontarvi tutto questo, quindi nulla di inventato come sempre. Però torniamo sulla busta per dire che 204 buste furono prese in carico poi fisicamente, facenti parte del carico personale degli astronauti, queste sono le prove che abbiamo detto di annullo del moon landing, ed ecco che, aspetto è molto importante, da quando la Bolafia ha avuto la forza di carpire l'importanza di questi oggetti e di commercializzare già 25 anni fa, questo oggetto è già tornato più volte in azienda, quindi la Bolafia ha sempre avuto il piacere di ricomprarlo per poterlo poi riproporre come stiamo facendo in questo momento. Lo vediamo da cosa? Dalla presenza delle firme che il signor Bolafi in persona, attuale presidente della nostra azienda, ha voluto apporre sulle buste a riprova proprio e a conferma anche della qualità che è rimasta immutata nel tempo. E prima di lui ancora, molto importante, se andiamo in basso... Tutte e due. Tutte e due, li vediamo infatti, non soltanto, abbiamo anche la firma di Alberto Niena, uno dei grandi periti degli anni 50 e 60 che ovviamente con piacere anche lui contribuì alla certificazione. Che sia autentica questa busta non ci sono dubbi, ma non ci limitiamo a dirvelo, perché è poca cosa. Noi siamo dei funzionari della Bolafi, siamo qui a raccontarvi queste grandi meraviglie, ma è importante che ci sia documentazione. E questo che ho tra le mani è il certificato finanziario di qualità Bolafi che è stato prodotto, guardate che meraviglia, a indicare tutte le caratteristiche della busta stessa. Abbiamo il numero di certificato 1220, unico lo ricordiamo, del 9 maggio 2006. Cosa vuol dire che questa busta, quindi come correttamente ci ricordava Massimiliano, è già passata attraverso diversi collezionisti. Il certificato segue il francobollo, la busta e se la busta e il francobollo continuano ad avere le stesse caratteristiche di quando è stato venduto, questo certificato continua ad avere la sua qualità. Vengono ovviamente riviste, rivisitate, rianalizzate, passatemi il termine, proprio per poter poi confermare la qualità e il suo stato di conservazione. Si conferma il dato di odierno lo stato di conservazione, vedete questo Moon Landing che vedete è rientrato in azienda da pochissimo, 8 maggio 2014, i nostri periti hanno verificato che lo stato di conservazione era integro e quindi confermano quello che è qualcosa di eccezionale, il grande stato di conservazione, addirittura 100%, il massimo, il massimo. Esatto, esatto. Qualità 100%, una delle rarissime, diciamo, buste o cover come si suol dire in ambito internazionale, buste legate alle prove d'annullo del Moon Landing, quello che fu l'annullo utilizzato per lo scoperta della Luna, la numero 2 tra l'altro, lo diciamo perché sono anche tutte quante numerate, la Bolafia ha la fortuna di proporvele e di portarle così in qualche modo anche in Italia a 12.600 euro, qualità 100%, l'8.573. Credetemi, per gli amanti delle grandi rarità, per gli amanti delle capacità, se vogliamo, e le conquiste lunari fatti dagli Stati Uniti e in America, mi raccomando non fatevi sfuggire questa incredibile possibilità. Aggiungo una categoria di appassionati, gli appassionati di fantascienza, perché gli appassionati di fantascienza amano l'invenzione, le conquiste dello spazio, qui abbiamo la realtà con un testimone di un'opera compiuta dall'uomo, lo sbarco sulla Luna. Bene, Lorenzo, proseguiamo, anche se meriterebbe una sola puntata questa rarissima busta del Moolanding, ma vogliamo farvi vedere anche altre interessanti proposte, magari di calibro un po' inferiore, semplicemente per un grado di rarità differente dall'introvabile busta di Moolanding, ma sicuramente altrettanto interessante. Facciamo un salto, andiamo nel 1933, dopo parleremo anche dei trittici di Balbo, che ormai sono veramente, come dire, famosissimi, ma nello stesso anno avviene un altro volo molto importante, che coinvolge anche l'Italia, ed ecco che viene fatta un'emissione dedicata al viaggio italiano dello Zeppelin. Lo Zeppelin, lo ricordiamo, questo incredibile dirigibile proprio realizzato per, come dire, sul progetto dell'ingegnere Graf Zeppelin, questo personaggio assolutamente famoso che si trova su tutti i libri di storia, che diede vita a questo nuovo modo di pensare ai trasporti nell'aria e soprattutto riuscì a compiere grandissimi voli, tra cui uno dei più importanti, quello fatto sul suolo italiano. Ed ecco che immediatamente le poste italiane del Regno, allora, dedicano una bellissima serie di francobolli, dove si vede ovviamente il passaggio, viene messo in risalto il passaggio, guardate che state saltate, quindi il passaggio sulla capitale, viene raccontato da questi bellissimi, questa bellissima serie fuori imperiali, abbiamo visto Cattel Sant'Angelo, eccetera, eccetera, circa Massimo, piuttosto che, ma la cosa veramente interessante è l'offerta che noi vi facciamo. Richiediamo, riteniamo, scusatemi, sì, riteniamo che un'offerta a questo livello sia di nuovo una grande proposta, un invito al collezionismo molto importante, perché vi diamo tutta la serie, esatto, tutta la serie, i sei valori dal 3 lire fino al 20 lire, quindi insomma tutto quanto il percorso, no? Pensate che belli, ve li abbiamo messi tutti insieme per darvi, anche per dare risalto alla ricerca estetica che fu fatta per questi francobolli. Noterete una cromia veramente accesa, noterete che i soggetti sono veramente molto italiani, quindi una serie imperdibile per gli appassionati del Regno d'Italia, per gli appassionati della postaerea italiana, ma soprattutto anche per coloro che per esempio collezionano lo Zeppelin. La Zeppelin è una collezione enorme perché tanti furono i voli in giro per il mondo. Sì, ecco, lo Zeppelin di nuovo mi fa venire in mente alla busta che abbiamo visto prima, la conquista della Luna è un passaggio finale di quello che è un percorso che inizia con la conquista del cielo. L'uomo ha avuto sempre il desiderio di volare, no? Dalla notte dei tempi e per quanto riguarda poi le cose concrete, i primi palloni aerostatici, i palloni frenati, che erano dei palloni riempiti di gas che venivano legati a terra e portati in aria. Poi abbiamo il Balloon Montè, famosissimi, con cui tante persone sono riuscite a comunicare in tempi di assedio, venivano fatti uscire con degli argonauti che governavano questi Balloon Montè e che spesso poi venivano trasportati lontanissimi dalle correnti. Ecco, gli Zeppelin, di nuovo, lo Zeppelin è un'altra fase importante, quella dei dirigibili, uno strumento di viaggio che sembrava dovesse essere poi infallibile, lo strumento più importante, se non che poi lo Zeppelin proprio vive una grandissima tragedia, proprio quando va in fase di atterraggio a esplodere. Purtroppo appunto il gas utilizzato per far volare più agevolmente, purtroppo fu l'innesco di un incendio terribile, ci furono moltissimi morti e quindi lo strumento di trasporto, questa innovazione incredibile, smise di essere il centro dell'attenzione e si decise di optare più per il trasporto aereo. Ma non abbiamo voluto limitare questa offerta che vedete, il lotto 1574, l'intera serie dello Zeppelin autentica a 400 euro, ma insieme vi regaliamo un fantastico album che riceverete a casa in omaggio, dove troverete tutte le informazioni relative a quanto vi abbiamo raccontato, soprattutto per coloro che magari non hanno potuto seguire l'intera presentazione. Imperdibile per coloro che vogliono veramente collezionare una serie interessante, tiratura virtuosa, una serie del 33, gli anni veramente fondamentali per la posta aerea italiana, sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista filatelico, quindi una proposta veramente eccezionale. Qualità splendida, ma lo vedono lo vedono sicuramente anche a casa Lorenzo, la qualità di questi francobolli che sono chiaramente attentamente selezionati dalla Bolaffi e soprattutto non è presente alcuna linguella, quindi francobolli non linguellati, perfettamente intonsi. 1933, 1933 in Italia siamo in pieno ventegno, siamo in una fase in cui gli italiani non stanno a guardare i successi degli altri. Lo Zeppelin è un successo tedesco, ma sicuramente in Italia avviene qualcosa di mitico, di unico, di favoloso, di una portata così alta che ben si lega alla riflessione che abbiamo fatto inizio puntata sulla conquista della Luna. Vi regaliamo un piccolo filmato introduttivo e poi ne parliamo. filmato introduttivo e poi ne parliamo. filmato introduttivo e poi ne parliamo. Grazie a tutti Bene, le immagini ci hanno dato una mano perché l'introduzione è sicuramente stata spettacolare, ma è spettacolare ciò che è avvenuto nel 1933. La crociera nordatlantica di Balbo viene celebrata dalla Bolaffi, vista la sua enorme importanza, vista l'ampia produzione filatelica che fu legata a questo evento proprio per testimoniare quanto accaduto, per raccontare nei secoli venturi, ed eccoci qua a farlo, grazie ai francobolli, proprio ciò che accadde nel 1933 e non per ultimo anche la possibilità di finanziare sempre attraverso i francobolli l'evento stesso. E proprio perché la Bolaffi si occupa di filatelia e di storia e di grandi eventi storici, si è voluto celebrare l'ottantesimo anniversario nel 2013 della crociera di Balbo, ma chiaramente lo proponiamo quest'anno, dedicando un intero album libro fatto da due dossier, pensate quante notizie ci sono all'interno, proprio a quanto fece Italo Balbo nel 1933, portando l'Italia in alto, all'apice delle cronache internazionali, portando l'Italia a presenziare ufficialmente alla fiera internazionale del progresso che si teneva a Chicago, attraverso un volo in formazione di stormo con 24 idrovolanti Savoia Marchetti, ne erano i motori, tutta made in Italy tra l'altro Lorenzo, diciamo perché farà piacere a coloro che sono a casa, ed ecco che è necessario, nonché fondamentale, celebrare tutto quello che vi stiamo raccontando attraverso una pubblicazione, questa pubblicazione fatta e studiata nei minimi dettagli, troverete la carta pergameneata, troverete uno studio grafico che richiama proprio anche l'estetica del tempo, troverete delle riproduzioni autentiche di cartoline dell'epoca, e non ci siamo voluti fermare qua, abbiamo voluto raccontarvi per esempio, scusami Lorenzo se mi permetto di aprire, guardate che cosa riuscirono a fare, partendo da Orbetello, arrivando fino in Islanda e poi trasvolando l'oceano, giungendo nel cuore degli Stati Uniti, questo fecero i nostri trasvolatori nel 1933, ed è con grande enfasi che lo racconto Lorenzo, semplicemente perché parliamo di un capitolo importantissimo della storia dell'aeronautica italiana, e fu testimoniato, lo ripeto, e celebrato, eccoli qua, anche da Franco Bolli e Buste, prese in carico proprio durante la crociera. Questi sono i famosissimi, forse non ci sarebbe bisogno neanche di una presentazione. No, sono proprio quegli oggetti così famosi, così importanti, così mondiali, che non richiederebbero presentazione, ma magari qualcuno li vede per la prima volta, quindi è giusto e corretto dare qualche informazione su questi magnifici trittici di Balbo. Certo Lorenzo, trittici di Balbo, perché trittici? Perché formate, e guardate l'estetica, Mario per cortesia fa un attimo un gran angolo solo per vederli nella loro totalità. Questi Franco Bolli nascono per celebrare un evento importantissimo, e come tale vengono studiati. Ed è importante anche la raffinatezza, non solo stilistica ed estetica, ma anche la struttura di questo Franco Bolli, che va a rappresentare un aereo, un aereo stilizzato, vedete, con un corpo centrale e due ali. Ma non solo, entriamo nel merito, due Franco Bolli, uno da 25 lire nella parte alta, dedicato alla tratta europea, perché 25 lire erano necessarie per trasportare delle buste, per quanto, diciamo, per le tappe cosiddette europee, ma poi, trasvolando l'oceano, bisognava aumentare il valore facciale. Ed ecco la seconda serie, da 50 lire, con l'inversione dei colori, ma con un punto di riferimento estetico molto chiaro, che troviamo su te due. Qual è? Nella pala di sinistra, individuiamo, la scritta, apparecchio i bianchi. Bianchini era null'altro che uno dei capitani che viene celebrato su questa coppia di Franco Bolli. 20.000 serie di Franco Bolli furono preparate, quindi 20.000 trittici per ogni singola serie. Questo ha reso questo Franco Bolli raro, importante e soprattutto testimone oculare di un evento straordinario. Sì, ecco, volevo così, è una curiosità, perché giustamente tu ci racconti sempre 50 lire. Com'è che si fa 50 lire? Allora... Vedete, qua c'è un valore. Esatto, Lorenzo, come giustamente indichi. Nella pala centrale troviamo il valore con l'effigie di Vittorio Emanuele III, il re che era ovviamente a capo del Regno d'Italia. Troviamo un'indicazione del valore facciale di 5,25. Andando esattamente alla vostra destra, trovate la seconda pala che indica il valore di 44,75. La somma di questi due fa esattamente 50 lire di valore facciale. Mentre la pala di sinistra serviva solo ed esclusivamente per rendere onore e merito al capitano dell'apparecchio. Non è un francobollo quello lì, fosse, e come tante volte è stato, è anche capitato, questi francobolli venivano separati, utilizzati diciamo separatamente, ma la pala di sinistra dove vedete la sovrastampa non poteva essere utilizzata come francobollo, perché non ha valore facciale. Ecco, abbiamo parlato di grandi uomini che conquistano la Luna con mezzi tecnologici, vi ricordate la riflessione che si faceva degli sforzi tecnici per andare a realizzare, utilizzare l'impresa e anche le conseguenze, diciamo, legate alla posta. Stessa riflessione, è importante fare, forse con maggior rispetto, nei confronti di chi disponeva di strumenti, guardate, di una semplicità commovente. Guardate che cos'è un apparecchio, Mario vieni pure su questa immagine, un semplicissimo idrovolante con un motore montato sopra, un unico motore. Sapete cosa significa attraversare l'oceano con un unico motore? Migliaia di chilometri volando a pelo d'acqua, nel frattempo Lorenzo guarda, abbiamo un'immagine qua dietro, ecco, questo era all'interno, guardate, pochi strumenti, valvole, manuali. Se il motore si spegne, non ne hai un secondo, puoi, se hai la fortuna, planare, appoggiarti sull'acqua, ma sicuramente le condizioni a quel punto diventano drammatiche, e infatti anche un aereo precipitò. Esatto, guarda, sfogliando, se non ricordo male, Lorenzo, troviamo un'immagine, intanto qua vedete gli alloggiamenti dove possono essere collegate ulteriori proposte che in questo momento non abbiamo, ma cosa interessantissima, per esempio, eccola qua, l'immagine autentica dell'ammaraggio dell'apparecchio Idini, dove purtroppo perì anche un motorista, quindi il coraggio che Balbo e i suoi trasvolatori dovettero veramente andare a trovare nel profondo del loro io, è veramente qualcosa di eccezionale, ma riuscirono a compiere quell'evento, ed ecco che, andando un pochino più avanti, troveremo le parate, le celebrazioni, guardate le foto autentiche, il generale Italo Balbo fu invitato a partecipare ovviamente ai momenti più prestigiosi, alle grandi accoglienze, gli fu, pensate, pensate che è una cosa che ci inorgoglisce tantissimo, dedicata una via a Chicago, Balbo Avenue, pensate, eccolo qua, guardate, qui possiamo notare cosa voleva dire atterrare, qua vediamo a Shadia, che siamo praticamente in Canada, guardate. E questo Canada, questo viaggio così complesso, così importante, ecco, ci testimonia che cosa? Per tornare alla nostra proposta, che parte lo sforzo, perché la richiesta di 950 euro, che adesso poi andremo a dettagliare meglio, che è data, è fatta dai due francobolli, i due trittici, è data dalle etichette di arinofili che adesso andremo a vedere, dei chiudilettere molto belli, autentici dell'epoca. E da questi due volumi, perché due sono, ecco, uno, guarda, tieni una massima così, non lo facciamo mai, facciamo di vedere quanta massa di importante c'è in questa offerta. Questi due libri sono stati realizzati davvero, uno sforzo enorme, guardate che meraviglia. Qui c'è tantissimi dettagli tecnici, anche per gli amanti. Guardate che opera veramente prima è stata fatta per questa opera. Bene, qui ci sono, vi dicevo, anche gli arinofili che adesso andiamo a cercare. Quello che, prima di dire, che visto il percorso che ha veramente abbracciato l'Europa, il nord Europa, gli ghiacci praticamente, e poi gli Stati Uniti, questo tipo di francobolli sono collezionati in tutto il mondo. In tutto il mondo, dovunque ci siano state le tappe di questa trasvolata, sono stati emessi i francobolli che andavano a, chiaramente, affrancare la corrispondenza che poi veniva presa e viaggiava con queste... Sì, che può essere, tra l'altro, raccolta in questo splendorale. Quindi, quello che vi stiamo dicendo, questo è un regalo che vi stiamo facendo. E' chiaro che vi chiediamo dei quattrini, quindi non è che possiamo proprio darvelo a gratis, insomma, così si vuol dire. Ma a 950 euro, vedete, gli arinofili autentici, fior di stampa. La serie completa. Completa. Le etichette, esatto, di abbellimento e celebrative dell'epoca venivano aggiunte ai francobolli trittici che vi avevamo mostrato prima, proprio per andare a rendere ulteriormente belle. Le buste che venivano trasportate all'interno degli idrovolanti che hanno compiuto l'evento, di cui avete, per coloro che sono appassionati, sappiate che c'è la possibilità di vederlo. Un Savoia Marchetti nella sua... Esattamente identico a quello che fu utilizzato nel 1933 presso il Museo dell'Aviazione, diciamo, nei pressi di Orbetello. Insomma, noi abbiamo fatto davvero uno sforzo enorme. Guardate qua, guardate qua, Balbo Avenue, la vedete? Eccola qua, questa signorina, probabilmente un'itola americana, che rendeva omaggio. Effettivamente bellezza tipicamente mediterranea. Esatto. E quindi Balbo Avenue, signori, così come tutto il mondo diede tributo ai nostri grandi e valorosi piloti, voi date veramente tributo a questo grande evento, collezionando i testimoni oculari. Noi vi diamo la possibilità di farlo con questa opera veramente importante, a un prezzo. Ma veramente lo diciamo poche volte, solo, soltanto, ma quando ci vuole, ci vuole. Vi diamo i francobolli, vi diamo gli arinofili, vi diamo i due album. Poi, cosa ne fate? Può diventare un bellissimo libro di testo, che racconta la storia, con gli studi, con le immagini, o può diventare l'inizio di un percorso che poi, se avete voglia, con piacere, pian piano, portate avanti, andando a inserire le buste, andando a inserire i francobolli stampati negli altri stati. Per esempio, la produzione di francobolli dedicati alle colonie, le buste, gli aerogrammi trasportati fisicamente da ogni parte del mondo. Tutti oggetti che hanno una richiesta di mercato importante, che hanno un valore di mercato che cresce nel tempo, perché lo possiamo dire, sono oggetti collezionati in tutto il mondo, quindi la domanda è molto ampia, la disponibilità è molto ristretta, anche perché furono preparati in tirature limitate, ma soprattutto a utilizzare solo ed esclusivamente durante il periodo in cui la crociera fu, diciamo, portata a termine. Quindi circa 20 giorni. Abbiamo visto una bella immagine di una bella signorina degli anni 30 sulla Balbo Avenue, qui abbiamo, che ci fa compagnia dall'inizio della trasmissione, quindi anche a spiegare che cosa si sono portati, una bellissima immagine di una bellissima signorina che ci ricorda all'inizio dei prossimi mondiali in Brasile. Esatto, e il legame. E il legame, chiaramente, con la filatelia. Quello che state, infatti, guardando è la rivista Il Collezionista, rivista dedicata alla filatelia pubblicata dalla Bolafi. È il numero di giugno dove, chiaramente, dedicato, perché così non poteva che essere così, ai mondiali in copertina, dove, chiaramente, sono stati emessi anche dei francobolli, come è capitato in tutte le edizioni, dedicati proprio a questo grande evento. Ecco, questa è una rivista, adesso facciamo una piccola digressione sulla classica scaletta che è fatta di francobolli in prezzi. Molto bello per entrare, guardate qua, per entrare nel merito del collezionismo di francobolli, per la cultura legata alla storia, che questi francobolli raccontano. Guardate, questa è l'offerta legata, appunto, alla nostra bellissima impresa di Balbo. Che vi abbiamo appena raccontato. Guardate, queste due pagine è tratto riassunta in maniera, direi, precisa e spettacolare. Il Collezionista, anche qui, è un bellissimo strumento per seguire lo sviluppo, le nuove produzioni filateliche mondiali, i casi, le curiosità, quindi anche questo è filatelia. Così come è filatelia, e questo va, invece, tributato con un ulteriore slancio, questo nuovo, grande, incredibile, rompighiaccio, mi piace definirlo così, un po' per il colore, un po' perché ha lanciato sicuramente una serie di aspetti innovativi nella catalogazione dei francobolli. Questo è il catalogo dei francobolli Bolaffi, edito dalla Bolaffi per il 2014, dedicato, chiaramente, ai francobolli italiani. E qui, davvero, un'enciclopedia parlante di tutti i francobolli, a cominciare, vedete, questi sono degli stati pontifici, gli antichi stati, il regno, la repubblica, qui trovate i francobolli emessi negli anni 30, non so, adesso vediamo se riesco a farlo in tempo reale. Quindi, a raccontarci, eccoli qua, vedete, questa è la posta aerea, qui ci sono addirittura i trittici senza sovrastampa, una grandissima rarità. Ecco, guardate qui, così ne abbiamo parlato, New Fongland. Questi sono i francobolli massimiliano emessi in onore. Del volo di Balbo del 33, lo vedete scritto in inglese, ma sono le celebrazioni che furono fatte attraverso i francobolli, pensate, sull'isola di Terra Nova. Che è una tappa. Esatto, in questi territori sperduti sentivano l'esigenza di dedicare attenzione a quello che fu un evento incredibile, possiamo paragonarlo allo sbarco sulla luna che abbiamo citato a inizio della trasmissione, Lorenzo. Guardate che bello, questo è il foglio integro dei francobolli dedicati appunto alla carcere di Balbo. Adesso non riusciamo a entrare troppo nella, non so se si riesce, prova Mario. Vedete che qui c'è per ogni francobollo, vedete, la sovrastampa con il nome del comandante. Del capitano, sì, del comandante del velivolo. 20 furono... Eccolo qui, guarda, Idina, scusami Massimiliano. Idina, l'abbiamo visto, l'aereo che è stato oggetto di incidente. Un incidente purtroppo, certo. Guardate che meraviglia. E poi arriviamo in alto e troviamo i Balbo, il comandante. Eccolo lì, facciamo uno zoom anche sul... rendendo giusto merito. Ebbè, è giusto che fosse il primo. In quanto comandante, lo ricordiamo, non soltanto della spedizione, ma generale dell'aeronautica italiana, che vive momenti di grande spredore quel periodo. Ed è proprio per questo che la Bolaffi crea questo fantastico album-libro nell'ottica di veramente darvi la possibilità di rivivere quei momenti che sono stati, dal punto di vista storico e filatelico, veramente celebrati a dovere. Bene, direi che il tempo, come non ce ne siamo resi conto parlando di oggetti così meravigliosi, l'entusiasmo è tanto, però il tempo scorre e praticamente non si ferma. Ah, Lorenzo, scusa se mi permetto. La rivista che vi ha fatto vedere, Lorenzo, c'è la possibilità, con una piccolissima spesa mensile, pensate di abbonarvi e di avere, quindi ricevere direttamente a casa, l'intera rivista mensile con tutti i dettagli veramente filatelici, storici, su quello che può essere veramente uno strumento di approfondimento vero e proprio. Rivista che c'è da tantissimi anni sul mercato, lo diciamo, quindi è stata anche, tra virgolette, modernizzata, se vogliamo, è stata anche un po' ringiovanita, grazie alla nostra redazione, no? Che ci mette sempre grande impegno, credetemi, tutti coloro che ci sono abbonati sono rimasti veramente colpiti, non soltanto dalla bellezza delle ragazze. Sì, diciamo che è una copertina un po' più atipica rispetto al classico. Però è la trovata anche in edicola, giusto? Assolutamente, potete comprare anche presso alcuni giornalai, piuttosto, se avete piacere, contattateci, vi daremo tutte le informazioni. Allora, se avete problemi a trovarla, magari è con la telefonata. Massimilano, dobbiamo correre, perché abbiamo ancora... Novità, velocemente, ve lo vogliamo presentare, ma due novità assolutamente interessanti e imperdibili. Adesso chiedo a Mario di fare uno sforzo, quindi, di dedicarsi, ecco, a, insomma, una ripresa diversa dalle solite, perché di solito inquadriamo gli oggetti di lì, e andiamo a parlare di un capitolo interessantissimo che la filateria ci ha regalato, che è quello dedicato alle colonie. Bene, le colonie sono ovviamente i possedimenti che l'Italia acquisì intorno agli anni 20, dove, chiaramente, la presenza del governo italiano rendeva necessaria la produzione di francovoli appositi per permettere agli italiani immigrati e agli stessi, diciamo, le popolazioni coloniche, di poter comunicare. E venivano forniti direttamente dalla nostra nazione, quindi dalla nostra cara Italia, e, ovviamente, andavano anche a celebrare, a ricordare, a testimoniare, se vogliamo, grandi eventi che venivano legati alla storia stessa delle colonie. Ed eccolo qua, infatti, uno degli eventi più sentiti fu proprio la visita di Vittorio Emanuele III nel 1934, che fu ricordata l'anno successivo da questa splendida emissione, che adesso vi vado a svelare. Giorno di Tamburi. Ah, è sempre proprio che stai muovendo un sipario. Esatto, Lorenzo. Ed eccola qua, nella sua interezza, una delle serie che viene veramente individuata come una delle serie più belle. È vero. La cosiddetta serie del re a cavallo, che va a celebrare la visita avvenuta nel 1934. Nel 1934 non era un anno banale, si celebrava attraverso il primo volo diretto da Roma a Mogadiscio, quindi... E torniamo alle grandi conquiste del volo. Bravissimo, con l'idea di aprire un servizio postale continuo dall'Italia, quella che era la zona più lontana, cioè il corno d'Africa, delle nostre colonie. Inoltre si celebrava, pensate, il 34esimo anniversario del regno di Vittorio Emanuele III. Ti ricordiamo, sale al trono nel 1900, dopo l'assassinio di suo padre, Umberto I, a mani dell'anarchico Bresci, in quel di Monza. Esatto, la tua precisione, Lorenzo, è sempre di grande aiuto. E proprio per questo insieme di momenti, di cose, diciamo, di eventi da ricordare, viene l'anno dopo celebrata attraverso questa bellissima emissione di Franco Bolli delle colonie. ed è appunto definita la visita di Vittorio Emanuele III in Somalia. Siamo nel 35, lo ricordavamo, la visita e gli eventi, le parate legate a questa visita furono considorevoli, fu appositamente stampata una lunga serie ordinaria di 14 Franco Bolli, che di fatto fu l'ultima emissione commemorativa della Somalia. L'esemplare con il re a cavallo è il valore più alto della serie ed è anche l'unico con soggetto a sé stante. Nei primi 13 sono invece tutti caratterizzati da paesaggi dedicati alla Somalia, chiaramente, al profilo del sovrano, eccetera, eccetera. Bene, questa serie, dato l'utilizzo che all'epoca si poteva ipotizzare, fu preparata in soli 10.000 serie. Quindi, questi Franco Bolli, nella loro totalità, all'epoca, nel 1935, furono preparati soltanto in 10.000 serie. Quindi, cosa vuol dire? Che questa serie era già rara all'emissione. Ecco che oggi avere la possibilità di fare un tuffo nel passato, di tornare a quell'epoca, di celebrare nuovamente le conquiste coloniali italiane, avete la possibilità di, tra l'altro in qualità eccezionale, e ve lo dico subito, 75%, Lorenzo, per cortesia, tra un po' mostriamo anche questo fantastico certificato, ve la proponiamo a 865 euro, pagabili anche a rate, lo ricordiamo. Quindi, veramente un regalo prestigioso, ad un prezzo, passatemelo per una volta al termine, veramente ridotto, visto il prestigio della serie, una occasione imperdibile. Interessante e curioso, ecco, continuiamo un attimo, no, torniamo a avere il certificato, già che ci sei, guardiamo il certificato, perché poi è importante, parliamo di francobolli, parliamo di carta, ecco, questo è un discorso, forse un po' meno romantico, ma molto pratico, di falsi ne esistono tantissimi, quindi è fondamentale avere una garanzia di autenticità, e questa garanzia di autenticità, non è scritta ne o su bianco, su un pezzo di carta qualunque, ma nel nostro caso su un certificato finanziario di qualità Bolaffi, che ne esprime tutte le caratteristiche tecniche, e poi ci dà la foto dell'esemplare più rappresentativo della serie. Il più raro. Il più raro. Una cosa interessante, che non si vede molto bene qua, perché è stato vidimato, se puoi per favore, Mario, inquadrare il nostro grande francobollo con il re a cavallo, volevo far notare il valore del francobollo, perché appunto il francobollo, ripetiamo, nasce per pagare la corrispondenza, sapete che ci sono i valori sia in lire italiane, che in lire somale, quindi con addirittura la scritta in arabo, perché queste venivano utilizzate dalle popolazioni locali e dagli italiani, e quindi dalla corrispondenza tra i due territori si utilizzavano questo tipo di... Veramente un'offerta imperdibile. Lorenzo, adesso noi ci... Io mi permetto di modificare la scena, come si dice, e di lasciare lo spazio a te, per andare poi in chiusura, con quella che sarà l'ultima proposta, che vuole essere un tributo veramente agli appassionati del marketing, ecco, se così posso dire. È vero, è vero. E te la lascio veramente presentare. E ti ringrazio davvero di cuore, perché sai quanto sia un appassionato di comunicazione, quanto mi piacciono le idee nuove per lanciare, come in questo caso, prodotti consolidati. Beh, quello che vedete, non è un francobollo antico, non è un francobollo delle colonie, non è un francobollo che è dato sulla luna, è un francobollo che comprate tranquillamente in tabaccheria. Da poco è uscito, tra l'altro. Esattamente, celebra un altro anniversario importante, però anche questo mi sento di dire a livello mondiale, che inorgoglisce gli italiani tutti alla stregua di una missione di Italo Balbo, perché non voglio banalizzare, ma la rascita della Nutella, secondo me, ha realizzato un altro passaggio fondamentale nella vita di tutto il mondo. Ma io credo che, anche se scherziamo, in realtà c'è un grande fondo di verità in questo. Perché io credo che sia uno di quegli alimenti veramente consumati in tutto il mondo, da tutte le razze, da tutte le religioni, e chiaramente soprattutto da noi italiani. Un vero marchio italiano. Bene, nel 2014, per celebrare i 40 anni della nascita di questa grande idea che è la Nutella, le poste italiane, proprio come leva di marketing, sospinta con un accordo chiaramente con la Ferrero, fa stampare, pubblicare, e mette un francobollo, appunto, che è quello che vedete. Francobollo, tra l'altro, moderno. Secondo me qualcuno, ma si sta stupendo di guardare questo francobollo, perché il francobollo non lo usa più. Tu da quanto tempo non vai, tu va bene i francobolli e li mastichi tutti i giorni, ma da quanto tempo non vai a comprare un francobollo al tabaccheria per, diciamo, affrancare un'arbusta? Forse le ultime cartoline spedite, forse 10-15 anni fa. Selfie, Twitter, immagini, sms, il francobollo sta sparendo e quindi diventerà sempre di più un oggetto di grande livello di collezione. Quindi questa considerazione che sembra frivola, ma in realtà ha un senso profondo. Bene, l'idea però di celebrare un'azienda, di commemorare un marchio, è un'idea già vista, come si suol dire, che arriva da tanto, tanto tempo fa e arriva esattamente, adesso andremo a vedere, c'è una, trovate una similitudine, una coincidenza di anni interessantissimi. Di cioccolato si parla. Nel 1924, 1924, quindi abbondantemente prima che la Nutella nascesse, c'era una grande azienda, 90 anni fa, esatti. Una grande azienda che tutti conosciamo, che ancora oggi ci regala delle delizie, vado a togliere il nostro francobollo e vado a inserire questa magnifica testimonianza di marketing di una grande azienda, che è la Perugina. I baci Perugina, signori, chi non conosce i baci Perugina, chi non ha tentato di conquistare la propria fidanzata, regalando un bacio Perugina, sperando che il messaggio con tutto all'interno desse quello slancio in più per sistemare un po' la situazione e dare un senso alla serata. Assolutamente. Nel 1924, le regie poste decidono di dare la possibilità alle grandi, importanti aziende italiane di associare al francobollo che veniva acquistato negli uffici costali e utilizzato, un'etichetta pubblicitaria che desse appunto visibilità all'azienda. L'azienda chiaramente sponsorizzava questa emissione e però aveva la possibilità di far conoscere il proprio marchio in tutto il mondo, perché poi queste buste magari circolavano. Ed ecco che la famosa, perché è una famosa e bellissima serie chiamata dei francobolli pubblicitari, non andrà soltanto a individuare nella Perugina un attore in campo, ma ci furono tantissime marche importanti, alcune ancora conosciute, il Corbio Alcampari, la Coen, la Singer, il Tagliacozzo, il Tantal, cioè ci sono ovviamente, la Reina, tutte imprese. Attenzione, la Singer, ancora la conosciamo, macchine da cucire. Quindi vi faccio vedere un insieme di questi francobolli, così tanto per vederli sul nostro catalogo, perché sono, è una collezione, nella collezione, c'è chi dice a me non interessa la collezione di francobolli, ma mi piace proprio il marketing, la pubblicità, come l'Italia, i manifesti. Ecco, la collezione dei pubblicitari, completa, è qualcosa di meraviglioso, legata chiaramente a Vittorio Emanuele III, ecco qui vedete Tagliacozzo, Tantal, eccolo qua, i nostri baci di Perugina. Perugina, voglio spendere una parola, Lorenzo, come giustamente fai notare, è una collezione straordinaria, tra l'altro molto ambita da tutti i collezionisti, e non, una serie che vive di luce propria, con valori anche che hanno grande richiesta, e quindi che garantiscono anche una certa, lo possiamo dire, rivalutazione del tempo, una collezione che ha subito grossi aumenti negli ultimi anni, proprio perché è molto ricercata. Il Perugina che vi abbiamo portato è il francovolo più rappresentativo, perché è il più grande, è quello che ha l'etichetta più vistosa, pensate, 135 euro lo proponiamo, bellissimo, di qualità eccezionale, con bordo di foglio superiore, fu l'unico a non essere emesso, perché fu preparato per la prima volta non un francobollo di posta ordinaria, ma un espresso, come ben vedi Lorenzo. Ed ecco che, nella fase in cui, diciamo, si stavano organizzando per produrre ed emettere questo francobollo, cosa accade? Accade che i francobolli buccitari vengono meno, il loro utilizzo viene, tra virgolette, chiuso, dal punto di vista proprio tecnico postale. Ed ecco che, da quel momento fino ad oggi, tutti gli amanti di francobolli particolari, di un servizio postale unico, in tutto il mondo, perché fu un'idea italiana, quella di promuovere l'azienda attraverso le comunicazioni e i francobolli, ecco che, noi vi proponiamo un modo per avvicinarvi attraverso un esemplare più rappresentativo, 135 euro, il francobollo pubblicitario perugino di qualità eccezionale, l'8.578. Abbiamo finito, ahimè, con grande, sempre con un po' di tristezza concludiamo le nostre proposte. No, non è vero, siamo felici perché vi abbiamo fatto vedere grandissime proposte legate allo spazio, legate al volo, pensate a quella busta del moon landing, telefonate, non costa tantissimo una telefonata, le colonie, la Somalia, il Perugina e chiedete maggiori informazioni e vedrete che saremo in grado di darvi ottime risposte e buoni suggerimenti. E di stupervi. Un saluto da Massimiliano Manfrinato e da Lorenzo Lamorte. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.